Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie Bestway Piscina Steel. Piscina Steel Pro TM Bestway le pareti extra resistenti sono formate da tre strati di materiale separati. Lo strato interno di maglia di poliestere è saldato in maniera industriale ai due esterni costituiti da un resistente e spesso strato di PVC, creando uno spessore totale tra i 0.40 e 0.80 mm, a seconda delle dimensioni della piscina. Resistenti pareti laterali in PVC e poliestere il linere è supportato da un telaio galvanizzato antiruggine. Connettori di controllo del drenaggio, per un rapido collegamento uso da esterno caratteristiche. Diametro 427 cm altezza 122 cm peso 65.4 kg capacità al 923062 It montaggio semplice e rapido in 30 con due persone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione